si carica trovi super saiyan livello 4 scotta i piedi se questo video arriva a 15.000 like la prossima bubble challenge ve la portiamo con il calcio saponato soprattutto spammate qui sotto nei commenti tutti quanti queste emoji e provate a indovinare chi dei 4 si è portato a casa più vittorie possibile bentornati quest'oggi nella primissima football challenge di quest'estate 2022 siamo in compagnia di Ferruc, Retuna e Fabio andremo a fare un 1 contro 1 all'interno di queste grandissime ok se volete rientrare quando lui dice mentre i ragazzi si preparano e mentre i ragazzi si preparano vi dico fin da subito che oggi non ci saranno regole quindi regnerà l'ignoranza sarà un match che durerà 2 minuti ragazzi Fabio contro Ferruc che vinca il migliore via let's go è partita la sfida oddio oh mio dio oh mio dio ragazzi ma è Ferruc un'azione incredibile è partita la gioca il Kremlin è partita forte è il Buvalero è partita bomba eh vai buona buona attenzione la carica del leone lo studia lo punta rimani bravissimo prova il tunnel non va vai Ferruccio occhio mamma mia partita è piuttosto comunque sportiva non si stanno facendo male in questo momento prova l'attacco attenzione il contropiede fa pano incredibile oddio vai Fabio vai Fabio vai Fabio allora si conclude il primo round gran sfida molto fisica incredibilmente in modo inaspettato se lo porta a casa Fabio reazione a caldo non me l'aspettavo la pulce sei morto sei morto secondo match si sfideranno Nicola Trombi anche Zettor Antonio Ferrara HX e Tuna 3,2,1 via attenzione Tuna si picchiano attenzione dai vai Tuna se ne è Tuna Tuna incredibile una fattica strana attenzione lo butta giù fondo tutto attenzione prova a tirare che parola attenzione una tecnica particolare una tecnica particolare Tuna Tuna 40 secondi mancano rimanenti attenzione prova la spinta attenzione ancora lui tacco attenzione è caduto è caduto è caduto è caduto è caduto no separata la salva incredibile incredibile attenzione Tuna gli ultimi minuti spara adesso chi segna vincerà vincerà Tuna o vincerà gol e gol signori gol e gol 3,2,1 via la trombi la pinza lo scarpa dentro Tuna vuole lo segnare non me la ricordavo così pesante come te l'ambulanza signori terzo match a questo giro si scontrano i perdenti delle prime partite ossia Eze contro Ferruc faccio volare va bene vediamo e inizia attenzione subito il Nicola trombi attenzione tacco oddio incredibile attenzione attenzione la palla è incredibile no la stava a fare ferma attenzione il tiro attenzione oh fermo la palla è mezzo la palla è mezzo la palla è mezzo la palla è mezzo ma distrutta ma distrutta la palla è distrutta proprio lui lo punta una contro uno non so più la palla è mezzo attenzione attacco fuori palo no tensione palla d'ultima ultimazione ultimazione tensione tensione ultimazione tensione no aglio al ginocchio aglio al ginocchio sei rotto aglio al ginocchio chiamata l'ambulanza chiamata l'ambulanza aglio guarda guarda al ginocchio no piccolino ci faccio la buca 0 a 0 risultato di parità golden goal palla al centro chi segna vince go 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 così da nulla no bro aglio che male madonna trattore ma che c***o vieni su continuiamo questa incredibile sfida ragazzi una challenge veramente letale i due vincitori retuna contro fabio che vinca il migliore stretta di mano bravissimi che vinca il migliore via vai tonino real madrid possesso di palla punta oddio e va c***o vai vai dura di potenza di potenza proprio lui 1 a 0 hai tutto il tempo del mondo bravissimo non mollare palla la sarà cinesca ci crede ci crede fabio ci crede non mollare non molla la risiste lo punta lo punta incredibile ancora loro due si giocano il primo posto in questo momento questi due ragazzi ancora di potenza non è restabile ancora proprio lui cosa fa cosa fa cosa fa vai credici credici lo punta ma oddio ci mette lo zampino 2 a 0 devi solo difendere adesso tu devi solo gestirla ti punta in difesa bravissimo respinge un altro tentativo d'attacco non molla comunque fabio onora lui onora lui ragazzi onora il merito continuo fino alla fine prova il tiro fuori signori due minuti due su due in questo momento il miglior giocatore di questa challenge bubble challenge sono io guardalo qui ciao mamma continua questa bubble challenge ragazzi adesso sfida tra veterani tra vichinghi ossia ferruc contro tuna fair play salutatevi naturalmente però abbiamo abbassato il minutaggio perché siamo spremuti perché questa è una sfida di resistenza di tenacia di forza tutte di più signori è l'ultimo vostro match in bocca al lupo che vinca il migliore via vai oh è la mattina e va con dio figa è demolito attenzione potrebbe arrivare la prima sconfitta per tuna che carica che gli ha dato il ferro ci cassini oh dio ragazzi questi sono tosti no vale ma tuna non ha ancora perso una partita sotto 2 a 0 mancano 20 secondi via vai tuna tuna stai sfigurando attenzione ferruc ti sta togliendo la corona lo può ragazzi finisce qui ferruc è l'unico che toglie la corona dal tonino ti devi inchinare vecchio t'ha distrutto zucca zucca da un bufalone signori l'ultima barrina del giorno il signorino Ezze con troppe afri fiderà Fabio sfida l'ultimo sangue che vinca il migliore 3 2 1 via subito duro porta vuota lo spinge fuori contacco 0 a 0 per loro attenzione trovi giù e trovi giù porta vuota tira a mano di nuovo 30 secondi e si vedrà chi è il vincitore di questa sfida proprio loro si carica trovi super saiyan livello 4 non va porta vuota lo secca e no mamma mia di forza porco di allora ragazzi abbiamo praticamente appena finito le partite adesso prima di concludere c'è la piccola chicca una piccola sorpresa frate quando ti dirò nell'altro che caldo c'è oggi prendiamo proprio Fabio lo solleviamo lo lanciamo in piscina ok ok va bene parola segreta che caldo c'è oggi che caldo c'è oggi ok tra l'altro caldo della madonna ora goutro dai vai andiamo bisogna chiuderli con stile i video andiamo andiamo dai ragazzi siamo giunti alla fine di questa bubble challenge mi raccomando qui sotto nei commenti commentate e dite chi secondo voi ha giocato meglio mi raccomando 15.000 like se volete che ve la proponiamo anche in versione calcio saponato ma soprattutto ragazzi sapete cosa vi dico ma che caldo fa oggi oh porca da vai pezzo di schifo tutti a che te dai che c'è il petaloncino mi rompi la maglietta scotta i piedi scotta i piedi vai vai dai giù su guarda sei stragrossa sono enorme girati Sì